Amici della cucina per tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento. Come state? Quello che ho in mano è del salmone affumicato. Questa mattina sono andato a fare la spesa al supermercato e ho detto perché non compriamo un po' di salmone? Perché mi andava di mangiarlo, ve lo dico sinceramente, con delle tartine e un pochino di maionese. Poi ho pensato perché non fare qualcosa di sfizioso da proporre ai miei amici che mi seguono sempre sul canale? E allora vi propongo oggi degli gnocchetti proprio con il salmone affumicato. Quindi se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per comporre questo piatto, mettiamoci al lavoro. Io sono Chef Fabio, i fornelli ci aspettano. Ingredienti per 2-3 persone. Ci servirà 250 g di salmone affumicato, 500 g di gnocchetti freschi, poi utilizzo la panna, non quella che trovo nel banco frigo ma quella che trovo nel semplice scaffale, olio, pepe, mezza tazzina di vino bianco, 25 g di concentrato di pomodoro o in alternativa, se più preferite, potete utilizzare 100 ml di passata di pomodoro, un po' di prezzemolo e io utilizzo invece che l'aglio un cipollotto fresco di tropea. Mettiamoci al lavoro, i fornelli ci aspettano e vediamo come realizzare quindi questo piatto. Allora iniziamo con il pulire il nostro cipollotto, li togliamo ovviamente tutta la parte verde che non ci serve e questa parte qui. Andiamo poi a togliere come vedete tutta la pelle che ovviamente poi risulterà brutta nel piatto. Quindi lo andiamo a eliminare e ci rimangono ovviamente questi due pezzi. Noi li andiamo a tagliare in realtà molto fini perché non vogliamo che alla fine quando andiamo a mangiare il piatto rimangano dei pezzi troppo grossi di cipollotto. Dopo aver tagliato il cipollotto cominciamo a tagliare anche a fettine oppure a quadratini il nostro salmone. Potete deciderlo se lasciarlo in questo modo oppure farlo un pochino più fine insomma come vi più vi piace. Bene abbiamo tagliato il salmone ora andiamo a preparare in padella l'olio con il cipollotto che abbiamo tagliato. Accendiamo il fuoco sotto la padella, olio, mettiamo un pochino d'olio abbiamo detto, poi andiamo a prendere il nostro cipollotto tagliato. Vedete? E' fine. E lo lasciamo soffriggere. Quando soffriggere noi andiamo a mettere dentro la padella anche il salmone. Soffriggere il nostro cipollotto quindi mettiamo il salmone. Abbiamo una girata così da non far bruciare il cipollotto. Lasciamo andare il salmone insieme al cipollotto per qualche minuto. Poi appena ci accorgiamo che sta cominciando a schiarire e che quindi ha cominciato la sua cottura lo sfumiamo con il vino bianco. Mettiamo il vino bianco e lasciamo sfumare. Gli diamo qualche coltetto in questo modo. Ecco qua. Mettiamo il concentrato di pomodoro. Metto giusto un pizzico di sale perché il salmone affumicato dà la base della salatura del sugo e lo aggiusto anche di pepe come potete vedere. Lasciamo andare così per 3 o 4 minuti. Poi aggiungiamo la panna e il prezzemolo. E' giunto il momento di andare a inserire la panna e il prezzemolo. Diamo una bella mescolata così da amalgamare tutti quanti gli ingredienti e quando comincia a sobollire di nuovo lo lasciamo andare per altri due minuti e poi spegniamo il fuoco. Nel frattempo io mi sono preparato la pentola con l'acqua dove poter buttare dopo gli gnocchetti. Come vedete è ripresa a bollire. Io lascio andare un altro minuto e poi spegno. Non lasciamo lasciodare troppo perché ci servirà per condire meglio gli gnocchi ovviamente. Io spengo il fuoco e lascio terminare la cottura degli gnocchetti. Poi possiamo andare ad assemblare il piatto. Gli gnocchi sono venuti a galla. Spengo il fuoco, vado a scolare e li buttiamo in padella. Bene, ho scolato gli gnocchi, li ho rimessi all'interno della pentola dove hanno cotto. Ora vado a mettere il nostro condimento, il nostro salmone. Perfetto, allora possiamo impiacciare i nostri gnocchi. Li mettiamo in un bel piatto rettangolare. Mettiamo anche un po' di sugo sopra, in questo modo. Un po' di pepe sopra e intorno un po' di prezzemola. Il piatto ragazzi è pronto.